Benvenuti avventurieri, esploratori di mondi fantastici e cercatori di tesori nascosti. Oggi vi immergeremo in un viaggio epico attraverso i regni incantati di Dungeons & Dragons, alla scoperta di una delle creature più affascinanti e misteriose, i draghi di rame. Siate pronti ad essere rapiti dalle loro astuzie, incantati dalle loro storie e preparatevi ad affrontare pericoli e avventure incredibili. Senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore di questa leggenda. Un drago di rame è una creatura leggendaria presente nell'universo di Dungeons & Dragons. Questi draghi sono considerati dei maestri dell'inganno e dell'astuzia, preferendo risolvere le situazioni attraverso la diplomazia e l'ingegno anziché la forza bruta. Fisicamente, i draghi di rame sono di colore bronzo o rame, con un aspetto slanciato e una membrana alare che ricorda quella di un pipistrello. Sono noti per la loro eloquenza e il loro talento nel convincere gli altri con il loro carisma e le loro parole. Tra le loro abilità, i draghi di rame sono maestri nell'arte dell'illusione e possono trasformarsi in altre creature o oggetti per ingannare i loro avversari. Sono anche abili nel lanciare incantesimi e possiedono un'intelligenza acuta che li rende formidabili avversari in qualsiasi confronto. Nonostante la loro predilezione per la diplomazia, i draghi di rame non esitano a combattere se necessario e sono in grado di difendere il loro tesoro e il loro territorio con ferocia e determinazione. Inoltre, sono noti per il loro senso dell'umorismo e spesso amano intrattenere i loro ospiti con enigmi e scherzi. Gli allineamenti dei draghi di rame possono variare leggermente a seconda dell'interpretazione del dungeon maschio o delle specifiche e delle varie edizioni di Dungeons e Dragons. Tuttavia, solitamente sono classificati come creature caotiche buone o caotiche neutrali. Essenzialmente, ciò significa che tendono a seguire i propri interessi personali e i loro desideri individuali, ma di solito agiscono per il bene comune o per un fine altruistico. Possono aiutare gli eroi o intervenire in situazioni pericolose se ritengono che ciò sia giusto o necessario. Tuttavia, è importante notare che ogni drago di rame è un individuo con la propria personalità e motivazioni, quindi potrebbero esserci eccezioni a questa generalizzazione di base. I draghi di rame possono essere trovati in molte regioni del mondo immaginario di Dungeons e Dragons, poiché sono creature estremamente versatili e adattabili. Tuttavia, di solito si trovano in luoghi che offrono loro l'opportunità di esprimere la propria intelligenza e abilità nel manipolare gli altri. Alcuni possibili luoghi in cui potresti incontrare un drago di rame includono. Montagne e colline. Queste creature possono abitare grotte nascoste nelle montagne o nascondersi tra le colline, dove possono osservare il mondo sottostante e interagire con viaggiatori o avventurieri che passano attraverso la loro zona. Città e metropoli. I draghi di rame sono noti per la loro capacità di adattarsi alla vita urbana e possono assumere forme umane o assumere identità segrete per influenzare gli affari politici o sociali. Delle città. Rovine antiche. Alcuni draghi di rame possono trovare rifugio tra le rovine di antiche civiltà, dove possono studiare e collezionare artefatti o conoscenze dimenticate. Boschi incantati. Anche se meno comuni, i draghi di rame potrebbero abitare aree boschive incantate. Dove possono sfruttare la loro abilità di inganno per interagire con creature magiche o viaggiatori smarriti. In definitiva, i draghi di rame sono creature estremamente versatili e possono essere trovati in una vasta gamma di ambientazioni all'interno del mondo di Dungeons & Dragons, aggiungendo un elemento di sorpresa e mistero alle avventure dei giocatori. Ecco una dettagliata argomentazione sui punti forti dei draghi di rame in Dungeons & Dragons. Astuzia e inganno. I draghi di rame sono maestri nell'arte dell'inganno e dell'astuzia. Posseggono un'intelligenza acuta e sono abili nel manipolare situazioni e individui attraverso la persuasione e l'inganno. Questa caratteristica li rende formidabili avversari, capaci di mettere alla prova gli eroi con enigmi e intrighi che vanno ben oltre la semplice forza fisica. Capacità di trasformazione. Una delle abilità più distintive dei draghi di rame è la loro capacità di trasformarsi in altre creature o oggetti. Questo potere di metamorfosi consente loro di infiltrarsi tra le fila nemiche, evitare il rilevamento magico e confondere i loro avversari con illusioni e stratagemmi. Diplomazia e carisma. A differenza di molti altri draghi, i draghi di rame preferiscono risolvere i conflitti attraverso la diplomazia e il dialogo anziché con la violenza. Possiedono un carisma innato e sono maestri nel convincere gli altri con le loro parole e la loro persuasione. Questo fa sì che possano essere alleati potenzialmente utili per i giocatori, se riescono a guadagnarsi il loro favore. Versatilità tattica, grazie alla loro combinazione di intelligenza, abilità di trasformazione e capacità diplomatiche. I draghi di rame sono incredibilmente versatili sul campo di battaglia. Possono adattare la loro strategia a seconda delle circostanze, passando dalla diplomazia all'inganno e alla combattività con fluidità sorprendente. Questa versatilità li rende avversari difficili da predire e sconfiggere. Umorismo e intrattenimento. Infine, i draghi di rame sono noti per il loro senso dell'umorismo e la loro propensione a intrattenere i loro ospiti con enigmi, giochi di parole e scherzi. Questo li rende non solo avversari temibili, ma anche personaggi affascinanti e intriganti con cui interagire durante le avventure. In conclusione, i draghi di rame sono creature straordinarie che aggiungono un elemento di sfida, mistero e divertimento al mondo di Dungeons & Dragons, offrendo ai giocatori una gamma di possibilità tattiche e interazioni uniche durante le loro avventure. Ecco una dettagliata analisi dei punti deboli dei draghi di rame in Dungeons & Dragons. Fragilità fisica Nonostante la loro intelligenza e abilità tattica, i draghi di rame sono fisicamente meno robusti rispetto ad altri tipi di draghi. La loro costituzione e resistenza sono inferiori, il che li rende più vulnerabili agli attacchi diretti e alle ferite inflitte durante il combattimento. Forza offensiva limitata A differenza di molti altri draghi, i draghi di rame non posseggono potenti attacchi fisici o capacità offensive devastanti. Le loro abilità di combattimento sono spesso meno impressionanti, e questo li rende meno formidabili in scontri diretti e brutali. Riservatezza di risorse magiche Sebbene i draghi di rame siano in grado di lanciare incantesimi e utilizzare la magia, le loro riserve di energia magica sono limitate rispetto ad altre creature magiche. Ciò significa che potrebbero non essere in grado di mantenere una lunga serie di incantesimi potenti o di resistere a un assalto magico prolungato. Tendenza alla solitudine I draghi di rame sono noti per la loro tendenza alla solitudine e alla segregazione. Preferiscono spesso vivere isolati dagli altri, il che li rende meno propensi a cercare alleati o ad avvalersi del supporto di altri durante il combattimento. Questa solitudine può rendere più difficile per loro affrontare minacce multiple o attacchi coordinati. Orgoglio e arroganza Come molte creature intelligenti, i draghi di rame sono spesso vittime del proprio orgoglio e arroganza. Questi tratti possono portarli a sottovalutare i loro avversari o a essere troppo sicuri di sé, aprendo spazi per errori fatali o per essere manipolati dagli altri. In sintesi, pur essendo creature incredibilmente intelligenti e versatili, i draghi di rame presentano dei punti deboli che possono essere sfruttati dagli avventurieri astuti e determinati durante le loro sfide e le loro avventure in Dungeons & Dragons. Ecco alcune strategie che gli avventurieri potrebbero adottare per affrontare un drago di rame in Dungeons & Dragons. Sfruttare la debolezza fisica. Poiché i draghi di rame sono meno resistenti fisicamente rispetto ad altri draghi, concentrarsi su attacchi diretti e fisici potrebbe essere efficace. Utilizzare armi e incantesimi che infliggono danni fisici potrebbe essere particolarmente utile per indebolire il drago. Contrastare l'inganno con la verità. Data la propensione dei draghi di rame all'inganno e alla manipolazione, gli avventurieri potrebbero contrastare la sua astuzia con la verità. Utilizzare incantesimi di rilevamento del pensiero o magie che rivelano la verità potrebbe smascherare le illusioni e le menzogne del drago. Sfruttare le debolezze magiche, nonostante possano utilizzare la magia. I draghi di rame hanno riserve limitate di energia magica e potrebbero essere vulnerabili agli attacchi magici prolungati. Gli incantatori del gruppo potrebbero cercare di sopraffarlo con una serie di incantesimi potenti o sfruttare le sue debolezze magiche con incantesimi specifici. Creare distrazioni e diversivi. Utilizzare trappole. Creature alleate o altri inganni potrebbe distogliere l'attenzione del drago di rame e consentire agli avventurieri di prendere di sorpresa il drago o di preparare attacchi strategici. Sfruttare la sua solitudine, poiché i draghi di rame tendono ad essere solitari. Gli avventurieri potrebbero cercare di sfruttare questa caratteristica per isolare il drago o convincerlo a unirsi a loro come alleato temporaneo contro una minaccia comune. Attaccare la sua fiducia. Utilizzare strategie che mettono in discussione l'orgoglio e l'arroganza del drago di rame potrebbe indebolirne la determinazione e la sicurezza. Mostrarsi più intelligenti o astuti del drago potrebbe metterlo in difficoltà e renderlo più vulnerabile agli attacchi. In conclusione, affrontare un drago di rame richiede astuzia, intelligenza e pianificazione strategica da parte degli avventurieri, ma con le giuste tattiche e preparazione. È possibile sconfiggerlo e ottenere la vittoria. Ecco alcune curiosità interessanti sui draghi di rame in Dungeons & Dragons. Amanti dell'intrattenimento. I draghi di rame sono noti per il loro amore per l'intrattenimento e l'umorismo. Spesso amano giocare scherzi e indovinelli ai viaggiatori che attraversano il loro territorio, rendendo gli incontri con loro un'esperienza unica e divertente. Collezionisti di artefatti. Nonostante la loro reputazione di creature egoiste, molti draghi di rame sono appassionati collezionisti di artefatti e oggetti rari. Possono accumulare tesori di ogni sorta, da antiche reliqui a oggetti magici, e si dedicano a studiarli e apprezzarli. Abilità linguistiche straordinarie. I draghi di rame sono poliglotti eccezionali e possono parlare molte lingue diverse, inclusi linguaggi segreti e arcana. Questa abilità li rende spesso degli intermediari preziosi tra diverse razze e culture nel mondo di Dungeons & Dragons. Ricercatori di conoscenza. Nonostante la loro reputazione di troffatori e manipolatori, molti draghi di rame sono avidi studiosi e ricercatori di conoscenza. Possono dedicarsi a studiare storia, artefatti magici e fenomeni naturali, accumulando una vasta conoscenza che li rende rispettati e temuti. Protettori inattesi. Nonostante la loro natura spesso egoista. Alcuni draghi di rame possono dimostrarsi sorprendentemente altruisti e protettivi nei confronti di coloro che riescono a guadagnarsi il loro rispetto e la loro fiducia. Possono intervenire per difendere comunità vulnerabili o aiutare gli eroi in pericolo, dimostrando che dietro la loro facciata di astuzia si nasconde anche un cuore generoso. In definitiva, i draghi di rame sono creature complesse e affascinanti che aggiungono profondità e mistero al mondo di Dungeons & Dragons, con una serie di caratteristiche e comportamenti unici che li rendono tra le creature più intriganti del gioco di ruolo. Che l'avventura continui ad arricchire le vostre vite con meraviglia e sorprese. Che i vostri giorni siano pieni di magia e che le vostre imprese siano sempre ricche di successo. Che il vostro coraggio sia inesauribile e che il vostro spirito sia sempre pronto per nuove sfide. Che la luce del vostro cammino illumini sempre la strada verso nuove avventure. Buon gioco, e che i draghi di rame siano con voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.